Crispiano celebra i suoi cento anni. C'è un clima festoso, un'atmosfera gioiosa, ma è giusto che sia così, è ovvio che sia così, perché oggi è un giorno di gran festa. Ma noi vogliamo conoscere e incontrare quei crispianesi che si sono distinti e si distinguono per il loro impegno, per la loro attività, in loco, sul territorio. Uno di questi è Angelo Marzia, che è titolare dell'impresa individuale Forum. Marzia, il suo amore per il territorio ha fatto sì che lei ha deciso di rimanere qui, di non allontanarsi mai. I suoi sforzi personali, economici, professionali sono incentrati su Crispiano. Da premettere che io sono nato a Crispiano, il 13-9-70, dopodiché Crispiano è come una mamma, perché bene o male mi sono cresciuto nelle vie del paese, quando il paese era ancora più piccolo, poi si è avuto la sua espansione come tutti gli altri centri. Purtroppo anche se vai via ti viene di tornare, perché comunque il tuo paese di origine è sempre la tua mamma reale. Ho puntato con mille difficoltà la mia azienda sempre nel mio paese, anche se uscendo fuori dal mio paese vai a trovare centri più grandi, con più possibilità di emergere, però penso di essere felice così, lavorare nel mio paese, restare nel mio paese e progredire nel mio paese. È un modo per crescere come impresa, ma in questo modo far crescere anche il territorio, far crescere tutta la comunità? Rimanere con sede a Crispiano è esportare la propria professionalità nei paesi dei metrofi o nella città dei metrofa, anche se usciamo fuori poli anche a fare qualche altro tipo di lavoro, diciamo, sempre inerente alla nostra attività. Un'attività, quella di Forum, che ora cresce, si espande, ora è anche Punto Edison, c'è questa partnership e business partner di Forum e business partner di Edison. Ecco, questo è stato un altro punto da inserire nella nostra attività per incrementare l'attività e per dare un servizio maggiore al nostro paese, creando questo ufficio Edison che altri paesi non hanno, mentre noi l'abbiamo portato a Crispiano proponendo ai crispianisti che c'è questo ufficio nuovo che è un servizio maggiore per loro, senza fare attese nei call center, senza andare a Tarno come si va. C'è un ufficio a Crispiano che dà gli stessi servizi che danno in città o in altri paesi più grandi del nostro. Bene, che altro dire? Marzia, buon compleanno, dovremmo dire cento anni, ma Marzia ne ha molti di meno, meno di mezzo secolo. È dal 91 che sto qua come attività, dunque sono 28 anni di attività fatti nel mio paese, il resto fatto come tutti quanti altri nel giocare, nel divertirsi nel proprio paese. Sempre legato e fiero delle proprie origini, delle proprie tradizioni, delle proprie radici. Sempre, Crispiano è bello, penso che è un paese tranquillo, è invidiato, purtroppo ora deve riprendersi un attimino da qualche evento un po' meno fortunato. Bene, allora auguri e in bocca al lupo. Forum di Marzia Angelo, Crispiano, assistenza e denis a caldaia a gas climatizzatori. Azienda certificata Norme Uni 11554 ed F-Gas per Taranto e provincia. Con rilascio di certificazione documentale per lente di controllo. Manutenzione ed installazione, eseguiti in sicurezza. Con attrezzature altamente professionali. Garanzia post vendita di due anni, con estensione fino a 6. Marche di qualità. Puoi verificare in sede la funzionalità e la qualità del prodotto funzionante. Il tutto, all'insegna della convenienza. Vieni a trovarci. Forum di Marzia Angelo, si aspetta a Cristiano in Corso Umberto Primo 235e. Con attrezzature altamente Grazie a tutti.